A conclusione della tre giorni di Citemos, festival città della tecnologia per la mobilità sostenibile, organizzato per il secondo anno da Confartigianato e Comune di Vicenza, utilizzeremo il nostro spazio in questa e nelle prossime puntate per cercare di contribuire all'opera di sensibilizzazione e informazione che i promotori hanno intrapreso, coinvolgendo nel corso di oltre 20 incontri un pubblico vario, persone interessate, amministratori, imprenditori e anche i nostri giovani. Sentiamo l'obbligo verso le nuove generazioni di lasciare l'ambiente in condizioni migliori di quelle che abbiamo trovato, ci aveva detto, presentando Citemos 2018, il presidente di Confartigianato Vicenza, Agostino Bonomo. Senza dimenticare poi, visti il ruolo e funzioni affidate ad un'organizzazione che guarda al futuro delle imprese, l'obiettivo di portare l'attenzione degli imprenditori sull'evoluzione già ben avviata nel settore auto, sulle necessità di aggiornamento e anche sulle opportunità legate all'innovazione tecnologica, che coinvolge case produttrici e il cosiddetto aftermarket, ovvero chi dà servizi post vendita. I veicoli elettrici avranno già domani uno spazio sempre maggiore nelle proposte dei costruttori. Ad imporre un radicale cambio di rotta, che come richiesto da Confartigianato, dovrà essere accompagnato da norme e interventi agevolativi, sono le direttive europee sulle emissioni dei motori endotermici sempre più stringenti, i blocchi del traffico, i recenti limiti alla circolazione dei diesel Euro 3, ma innanzitutto la gravità della concentrazione di polveri sottili nell'aria. Una pericolosità di cui ha parlato anche nel corso di interventi rivolti agli studenti, in questa edizione del Festival al Liceo Pigafetta, Valerio Rossi Albertini, fisico nucleare e primo ricercatore al CNR. Un'agenzia che si occupa esattamente della salute dei cittadini, un organismo europeo, ha sentenziato solennemente che nel 2015 ci sono stati 60.000 decessi in Italia per patologie correlate all'inarrazione delle polveri sottili. Sono dati del 2015 perché ci vogliono anni per riuscire ad elaborarli e a dare una risposta attendibile. Questo ci dice che in realtà in Italia è il problema principale quello dell'inquinamento, cioè ha subissato, ha sovrastato tutte quante le altre patologie che tradizionalmente affliggono soprattutto la popolazione più anziana. Qual è il danno che produce la polvere sottile? Il nostro sistema respiratorio è stato plasmato dalla natura per riuscire a filtrare tutte le polveri che sono presenti naturalmente intorno a noi. Il problema è che le polveri sottili, proprio l'appellativo, l'epiteto sottili indica questo, sono di grana così piccola che riescono a eludere tutti i filtri naturali e si insinuano all'interno degli alveoli polmonari. Gli alveoli polmonari sono in diretto contatto con il sistema circolatorio e quindi da lì le polveri sottili trapassano in tutti quanti i distretti corporei, in tutti gli organi e a quel punto la situazione può essere veramente molto complicata. Ecco, possiamo anche dare un nome a queste malattie che possono insorgere? Oh sì, ce ne sono tanti di nomi, ma sono i nomi dei tumori ricorrenti, anzi posso dire ancora di più che nel 2016 la rivista, una delle riviste scientifiche mediche più prestigiose del mondo, Lancet, ha sentenziato solennemente che coloro i quali si trovano in condizioni di contaminazione da polveri sottili hanno una probabilità doppia rispetto a soggetti che invece sono in contesti salubri di contrarre malattie neurodegenerative addirittura, perché le polveri sottili arrivano fino al cervello, Parkinson e Alzheimer. Il professor Rossi Albertini è conosciuto e apprezzato anche dal pubblico televisivo per i suoi interventi in qualità di divulgatore scientifico spesso dedicati proprio all'inquinamento dell'aria, la cui gravità non è pienamente percepita dalla gente. Come mai? Lo abbiamo chiesto al sociologo Francesco Morace, pure lui tra i relatori del festival, dove tra l'altro ha intrattenuto un folto gruppo di studenti al ridotto del teatro comunale di Vicenza. Diciamo che le persone reagiscono alle conversazioni che poi vengono riprese dai media, diciamo che hanno tanto a cui pensare e di cui discutere. Purtroppo su questo tema ancora non si è stati capaci di aprire un ragionamento che possa direttamente impattare sulla vita quotidiana delle persone, cioè far capire quali sono le conseguenze, mostrare degli esempi. È un tema difficile, quindi su questo bisogna davvero trovare, a partire da bambini molto piccoli, quindi dai ragazzi, dalle scuole, trovare degli argomenti che possono diventare per loro di interesse, di curiosità o anche addirittura di emozione, perché se non dai l'esempio che alla fine intercetta le ragioni del cuore, l'Italia su questo devo dire che è difficile da coinvolgere. Nel percorso avviato con Futuro Elettrizzante nel 2011, Confartigianato non solo ha raccolto l'impegno della maggioranza dei comuni della provincia a collaborare, ma ha mosso anche passi concreti come la posa, ha ricordato il direttore generale Pietro Dellotto, di una prima rete di colonnine per la ricarica elettrica, collocate in modo da avere in provincia punti di approvvigionamento ad una distanza tra essi di circa 40 chilometri. Servono incentivi e un'adeguata programmazione per favorire il processo di conversione a favore della mobilità elettrica, ha sollecitato il presidente provinciale di Confartigianato Agostino Bonomo. Un impegno che chiama in causa le istituzioni e non solo. Serve infatti un rapido adeguamento delle infrastrutture, ecco come ad esempio sono orientati i progetti che interessano le autostrade Brescia-Milano, Brescia-Padova, nonché l'attesa Valdastico Nord. Oltre alla dotazione di colonnine per la ricarica, essi guardano a sistemi che consentiranno l'alimentazione in corsa dei mezzi pesanti. Nella nostra visione c'è già quella che è la piattaforma per uno sviluppo tecnologico, tutti pensiamo all'auto elettrica che giustamente ha bisogno di proprie infrastrutture per essere funzionale come oggi forse non è ancora. La nostra visione è sull'autostrada nuova che vogliamo realizzare, ovvero completamente a nord della Valdastico, avere già la predisposizione di tutto quello che servirà per un futuro che oggi ancora non riusciamo a definire ma che iniziamo a immaginare e ovviamente questo porterà poi l'amodernamento di quello che sarà il resto della nostra infrastruttura autostradale. Noi per il 2019 dovremmo dotare le nostre aree di servizio di l'erogazione a metano liquido e entro il 2019 anche ricariche per auto elettriche. Intanto abbiamo avviato con il nostro concedente la sperimentazione, progettazione e sperimentazione del primo tratto elettrico su territorio italiano di una highway, cioè un'autostrada che ha al di sopra un cavo elettrico che possa permettere ai camion e alla trazione pesante di potersi ricaricare e di poter viaggiare con elettrico. Torneremo con altri contributi da Citemos 2018 nelle prossime settimane.